Benvenuti ad una nuova puntata di N3TV News sulla NET Television, a cura di Tommaso Tessarolo. Io sono Carola ed ecco il sommario di oggi, 5 novembre 2007. Play Café, live game show interattivi. Hanno cancellato Heroes, lo vedremo su Hulu? Pandora Video, Midwest Insex Show. Vi siete fumati il cervello? Sigla! Play Café, live game show interattivi. Lo stavamo aspettando, uno dei generi più seguiti in TV che può avere online una nuova giovinezza. Stiamo parlando dei giochi, dei quiz a risposta multipla con una conduzione gestita in diretta, dando la possibilità ai NET spettatori di partecipare al gioco con una console interattiva. Si chiama Play Café, il nuovo progetto online nato negli Stati Uniti che promette di lanciare questo genere sulla NET TV. Per il momento è solo in beta chiusa, ma vi facciamo vedere comunque un video che vi farà capire di cosa si tratta. Hanno cancellato Heroes, lo vedremo su Hulu. Come molti si saranno accorti, Italia 1, per semplici e comprensibili ragioni di Cher, ha drammaticamente cancellato la programmazione di Heroes. Le ultime puntate del serial TV verranno programmate a metà novembre, di mercoledì, in seconda serata. Niente paura, qualcuno ha pensato. Potremmo ora seguire le vicende dei nostri supereroi sul nuovo portalone video di Hulu. Ma non è così. Il privilegio è riservato ai soli utenti americani. Per noi poveri europei, il destino del video online è ancora terribilmente incerto. L'unica strada percorribile rimane il peer-to-peer. Pandora Video Ricordate Pandora, lo splendido servizio online in grado di costruire palinsesti radio personalizzati su gusti di ogni utente? Da qualche mese oscurato per chi non risiede negli USA? Sembra ormai prossima la tanto attesa evoluzione del servizio verso i video, con un accordo che Pandora avrebbe stipulato niente meno che con MTV. Oltre alla radio personale, potremmo avere quindi il nostro canale video musicale cucito sui nostri gusti. Midwest Insex Show Si può parlare di sesso e di tutto quello che non si è mai osato chiedere? Ecco lo show, ironico e divertente, che non vuole promuovere il sesso, ma solo aprire delle discussioni sui temi imbarazzanti legati alla sessualità. Due episodi al mese con uno stile impeccabile, in cui Nicole mette in pratica la sua filosofia Sex is more fun when you share. Door open. Is anyone there? Hello? Judy! Hey Judy! Brandon, what was that noise? Is it you? What are you doing? Help me! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.